Agire noi per primi, non aspettate che siano gli altri a risolvere i vostri problemi. Per la rinascita, mi batto il cuore, conosciuto Andrea, una storia straordinaria. Grazie. Da dove parto? Qual è la tua rinascita? Se dovessi definire la rinascita, che cos'è? La rinascita è un punto in cui, secondo me, da un momento all'altro, almeno parlo della mia esperienza, crolla tutto e da lì devi comunque ricominciare. Io sono atleta paraolimpico, sono coach, secondo me è uno dei lavori più belli del mondo e a 17 anni, da un momento all'altro, mi sono ritrovato con una gamba sola. Perciò, in un momento pieno della mia vita, ho dovuto rinunciare a tantissime cose, alla ricerca di un qualcosa di nuovo che poi, a distanza di 32 anni, oggi... Non dico che ringrazio quel momento, però è possibile anche rinascere. Quando è stato il momento, il click che... Si è passato da un momento, penso, di disperazione iniziale. Sì. Quando è che hai detto, no, tac, lo scatto? C'è stato un evento, un fatto, una parola? Sì, lo sport mi ha salvato la vita quella notte, avevo perso 25 kg in una notte e 9 litri di sangue. E se non mi trovavo pronto in quel momento, non lo so. Poi lo sport mi ha dato anche la possibilità di capire, pensi che tutto sia impossibile, però se prima andavi in canoa ci vai ancora con una gamba. E allora ho capito, ok, non so ancora come, ma sono convinto che se prima tutto era impossibile, da questo momento qualcosa è diventato possibile. E da lì è iniziato il viaggio, che è più un'avventura che un viaggio. E adesso, dopo oltre 30 anni, come è la tua vita? Cosa stai facendo? Domanda retorica, perché c'ho qua vicino un oggetto, anzi, una coppia di oggetti. Ci vuoi raccontare di questa cosa? Che cos'è? Questo è uno dei miei tanti progetti, nel senso che io sono atleta parolimpico, ho la fortuna di viaggiare nel mondo in sella la mia bici, sono produttore di queste catane in carbonio che hanno completamente rivoluzionato il mondo di chi utilizza questo ausilio per vivere o deambulare. Perciò toglie sicurezza, toglie dolore alle mani, vibrazioni, maggior microtraumi e adesso lo stiamo pian pianino commercializzando. Cioè da un momento in cui tutto sembrava perso, poi questa possibilità mi ha fatto diventare imprenditore. Quindi tu hai trasformato un oggetto anonimo, maltrattato, che tu magari per 25 anni, per quasi 30 anni... No, senza il magari... Per forza, però era, non dico un impedimento, ma una roba si è obbligato a usarlo, fino nel discorso. Non andavi oltre col pensiero. Poi ti è scattato una roba che hai detto, no, trasformiamola questa cosa in un'iniziativa imprenditoriale, in qualcosa che migliora la vita delle persone veramente, perché questo alla fine migliora la vita, giusto? Sì, cambia ovviamente, e non lo nascondo, perché non bisogna nasconderlo, ha un prezzo completamente diverso, perché i prodotti in mercato sono plastica e alluminio, però ti cambia la vita, a me ha cambiato la vita, sta cambiando la vita di chi la sta utilizzando e pian pianino siamo qui anche in un bellissimo incontro dove ci insegnano anche, no, come comunicare i nostri progetti, perché i progetti, i bei progetti e le belle idee vanno poi anche comunicate nel modo giusto. Ascolta Andrea, io ho lanciato questo progetto perché voglio fare qualcosa in controtendenza rispetto a questo clima un po' negativo di cose brutte che sono successe anche negli ultimi tre anni, quello che sta succedendo adesso, non voglio nominarle quelle cose, ma sappiamo di cosa parliamo. So che, sappiamo tutti, ci sono persone che sono in difficoltà e che magari si sentono disperate, si sentono a un punto di... che magari potrebbero fare anche una cazzata, diciamocelo sinceramente. Tu cosa ti senti di poter dire magari, qualcuno che magari guarda questo video, ecco, il mio sogno è fare in modo che questi video possono far scattare un click a qualcuno, fargli decidere di cambiare strada, di prendere una direzione veramente più positiva e senza farla facile, però diciamo... Esatto. Anche nel punto più nero della vita, insomma, può succedere qualcosa che ti può far svoltare? Essere, allora, essere fiduciosi io amo tantissimo. Uno degli aspetti, e domani inizierò proprio il mio speech, domani sono state l'importanza delle parole, l'importanza delle storie, l'importanza delle frasi e il fatto di credere che comunque più in là c'è la fine di questo tunnel. Io l'ho sempre, più che immaginato come un tunnel, l'ho sempre immaginato come un muro, no? Muro formato da mattoncini e pian pianino togliere questi mattoncini e saltare o andare o camminare dall'altra parte. Qual è il grosso e lungo lavoro che dobbiamo fare? In base alla grandezza di questo muro, alla nostra dunque difficoltà, agire noi per primi, non aspettate che siano gli altri a risolvere i vostri problemi. Io la mia disabilità l'ho superata, avevo la famiglia, ora ho la moglie, le figlie, la squadra, tutto quello che volete, però poi sono io alla mattina che mi alzo, sono io che vado a lavorare, sono io che mi alleno, sono io che mangio in un certo modo, sono io che compro i studio libri che voglio imparare. E lì è vero che sono anche gli altri, ma il 70-80% della responsabilità di quello che ci può anche accadere dipende da noi. E meno male che è così, perché raggiungiamo anche i traguardi e è merito nostro dei traguardi che raggiungiamo. Guai contrario. Grazie Andrea. Grazie a te. Fantastico. Grazie. Grazie. Grazie.